Torino nel 2015 ospiterà il nono congresso mondiale delle camere di commercio, un traguardo molto importante raggiunto grazie all'impegno della Camera da lei guidata. Che significato ha per Torino? Intanto mette Torino davanti a tutti quelli che sono i protagonisti dell'economia mondiale, quindi i sistemi delle imprese di cui le camere di commercio sono un'espressione. Siamo molto fieri e orgogliosi di aver raggiunto questo risultato. Questo convegno, il congresso mondiale si svolge nei vari continenti ogni due anni. Nel 2015 è il turno dell'Europa e noi Torino abbiamo superato la candidatura di altre tre città, Ginevra, Liverpool e Belfast e come sempre è successo da molte soddisfazioni e comunque è la dimostrazione di tutto un lavoro importante, paziente, oscuro fatto da tutta un'equipe di persone che ha creduto in questo e quindi noi speriamo che possa portare la nostra città e il risultato ai massimi della visibilità possibile e comunque certamente uno dei punti che ha fatto ottenere a noi il successo sta di aver fatto vedere che Torino ha tutte le capacità di andare anche molto al di là di quelle che sono le aspettative. Ciò valorizza il ruolo e l'importanza delle camere di commercio a livello internazionale. Lei ritiene che questo possa aumentare la credibilità degli italiani nel mondo? Ma questo è uno dei punti, non posso dirlo senza dare l'impressione di volermi vantare, ma credo che con l'umiltà savauda posso dire con orgoglio che credo di sì, che sicuramente il ruolo delle camere di commercio come catalizzatori, facilitatori dell'economia e sostegno per il sistema delle imprese, ecco poter portare a Torino il sistema delle imprese di tutti i settori dell'economia e consentire alla nostra città di essere valorizzata, ma di dimostrare anche sulla capacità dei torinesi, ma degli italiani di fare le cose davanti a tutti i protagonisti dell'economia del mondo. Una vittoria molto importante a supporto della crescita del territorio. Immagino che a questo successo abbia contribuito anche il supporto delle istituzioni non solo torinesi, ma anche italiane. Noi abbiamo ottenuto il sostegno di tutti. Il giorno della presentazione della candidatura con me è venuto il sindaco Fassino, l'ambasciatore Scarante per dimostrare che il mio territorio, la massima autorità e l'Italia con l'ambasciatore nel paese erano con me e si sono spesi nel dimostrare questo. Sicuramente però dietro c'è tutto il mondo della presentanza, in particolare delle istituzioni torinesi, ma anche delle imprese. Noi abbiamo avuto il sostegno dal Presidente della Repubblica, al Palazzo Chigi, a tutte le associazioni di categoria, ma il mondo delle imprese torinesi, dalle piccole alle grandi, ma le grandi in particolare dal gruppo Fiat, all'Azimut, a tante altre aziende e noi contiamo molto su questo perché adesso abbiamo superato il primo step che era quello di vincere la candidatura, ma adesso dobbiamo riuscire per il 2015 a mettere in azione qualcosa che dimostri che noi siamo a andare al di là delle aspettative e quindi far vedere quando saranno qui i protagonisti questi duemila personaggi dell'economia del mondo che noi siamo stati capaci di portare. Certamente poi sono le persone che fanno le cose e quindi sono i singoli uomini di questo territorio che hanno portato ad avere questo risultato. Ciao! 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 Grazie.